Il cavaliere dalla splendente armatura e la damicella è in pericolo. Nel travaglio del conflitto edipico, un ragazzino può trovare del risentimento verso suo padre, che gli impedisce di ricevere l'attenzione esclusiva della madre. Il bambino vuole che sua madre ammiri lui come il più grande degli eroi. Ciò significa che in qualche modo deve togliere di mezzo il padre. Quest'idea però ingegnera ansia nel bambino, perché cosa sarebbe della famiglia senza il padre che se ne prendesse cura? E cosa succederebbe se il padre scoprisse che il ragazzino voleva che lui si togliesse di torno? Non potrebbe prendersi una tremenda vendetta? Possiamo dire più volte a un bambino che un giorno crescerà, si sposerà e sarà come suo padre, ma in vano. Questo suggerimento realistico non offre sollievo alle pressioni che il bambino sente al presente. Ma la fiaba dice al bambino come può vivere con i suoi conflitti. Suggerisce fantasie che egli non potrebbe mai inventarsi da sé. La fiaba, per esempio, offre la storia del ragazzino ignorato da tutti che si avventura nel mondo e riscuote un gran successo nella vita. I particolari possono differire, ma la trama fondamentale è sempre la stessa. L'improbabile eroe mette alla prova se stesso uccidendo draghi, risolvendo enigmi e vivendo grazie al suo ingegno e alla sua bontà, finché alla fine libera la bellissima principessa, la sposa e poi vive per sempre felice con lei. Non c'è bambino di sesso maschile che non si sia mai visto in questo ruolo principale. La storia lascia intendere questo. Non è il padre con la sua gelosia che impedisce al ragazzo di avere la madre tutta per sé, ma è un drago malvagio. E quello che in realtà il ragazzo ha in mente è uccidere un drago malvagio. Inoltre, la storia conferisce veridicità alla sensazione del ragazzo che la donna più desiderabile è tenuta prigioniera da una figura malefica. Ciò implica che non è la madre che il figlio vuole per sé, ma una donna splendida e meravigliosa, che non ha ancora incontrato ma che certamente incontrerà. La storia dice di più di quanto il ragazzo voglia sentire e credere. Cioè che non è di propria libera volontà che questa donna meravigliosa, cioè la madre, coabita con questa malvagia figura maschile. Al contrario, se soltanto essa potesse, preferirebbe di gran lunga stare con un giovane eroe, come il bambino. L'uccisore di draghi deve sempre essere giovane, come il bambino, e innocente. L'innocenza dell'eroe, con cui il bambino si identifica, dimostra per interposta persona l'innocenza del bambino. Cosicché lungi dal doversi sentire colpevoli per queste fantasie, il bambino può sentirsi nelle vesti del fiero eroe. È caratteristico di storie del genere che una volta che il drago è ucciso, o dopo il compimento di qualsiasi altra impresa che libera la bellissima principessa dalla sua cattività, e l'eroe si è unito alla sua amata, non ci vengono forniti particolari su quanto avviene in seguito nella loro vita, a parte l'informazione che vissero a lungo felici e contenti. Se viene fatto accenno ai loro figli, si tratta in genere di un'interpolazione concepita più tardi, da qualcuno convinto che la storia sarebbe diventata più piacevole o realistica con l'aggiunta di questa informazione. Ma l'introduzione di figli nel finale della storia rivela una scarsa comprensione delle fantasie di un ragazzino su quella che secondo lui è un'esistenza beata. Un bambino non può e non vuole immaginare ciò che in realtà la condizione di marito e di padrone comporta. Ciò implicherebbe, per esempio, che egli dovrebbe lasciare la madre per la maggior parte del giorno per andare al lavoro. Invece la fantasia edipica è una situazione dove il ragazzo e la madre non si separano mai, per un solo momento. Il bambino certamente non vuole che la madre sia indaffarata con le faccende domestiche o accudisca ad altri bambini. Non vuole neppure avere rapporti sessuali con lei perché il sesso è ancora un campo pieno di conflitto per lui, ammesso che ne abbia una qualche consapevolezza. Come nella maggior parte delle fiabe, l'ideale del bambino di sesso maschile si compendia nel fatto che lui e la sua principessa, la madre, soddisfatti tutti i loro bisogni e desideri, vivono insieme per sempre, votati l'uno all'altra. I problemi edipici di una bambina sono diversi da quelli di un maschietto e quindi le fiabe che le aiutano ad affrontare la sua situazione edipica sono di tipo diverso. Ciò che impedisce l'ininterrotta esistenza beata della bambina edipica col padre è una donna più anziana e malintenzionata, cioè la madre. Ma dato che la bambina desidera anche intensamente continuare a godere delle amorevoli cure prodigate dalla madre, c'è anche una donna benevola nel passato o nello sfondo della fiaba il cui felice ricordo è mantenuto intatto per quanto esso sia diventata inoperante. Una bambina ama vedersi come una giovane bellissima fanciulla, una principessa o qualcosa del genere, che è tenuta prigioniera dall'egoistica, malvagia figura femminile e quindi non è accessibile per l'amante maschio. Il vero padre della principessa prigioniera è presentato come benevolo, ma nell'impossibilità di accorrere in salvo della sua adorabile fanciulla. Il Rapunzel è un voto a legargli le mani. Incenerentola in biancaneve egli appare incapace di tenere testa alla potentissima matrigna. Il maschieto edipico, che si sente minacciato da suo padre a motivo del suo desiderio di prendere il suo posto nell'attenzione della madre, mette il padre nel ruolo del mostro minaccioso. Ciò sembra al tessì dimostrare al ragazzo la pericolosità del padre come rivale. Infatti, perché altrimenti questa figura paterna sarebbe così minacciosa? Dal momento che la donna desiderabile è tenuta prigioniera nel vecchio drago, il ragazzino può credere che soltanto la forza bruta impedisca a questa meravigliosa ragazza, la madre, di unirsi a lui, il giovane eroe tanto preferito. Nelle fiabe che aiutano la bambina edipica a comprendere i propri sentimenti e a trovare un'indiretta soddisfazione è l'intensa gelosia della matrigna, cioè della madre o della maga, a impedire all'innamorato di trovare la principessa. Questa gelosia dimostra che la donna più anziana sa che la ragazzina è preferibile, più amabile e più degna di essere amata. Mentre il ragazzo edipico non vuole che nessun bambino interferisca a quel completo coinvolgimento di sua madre nei suoi confronti, le cose sono diverse per la ragazza edipica. Essa vuole offrire al suo padre il dono d'amore di dargli dei bambini. È difficile determinare se si tratti di un'espressione del suo bisogno di competere con la madre sotto questo punto di vista o di una vaga anticipazione della sua futura maternità. Il desiderio di dare al padre un bambino non significa avere rapporti sessuali con lui. La bambina come il bambino non pensa in termini così concreti. La bambina sa che i figli sono ciò che lega ancora di più l'uomo alla donna. È per questo che nelle fiabe che trattano in forma simbolica dei desideri, dei problemi e delle difficoltà edipiche di una ragazza, a volte può accadere che venga accennato ai figli come parte del lieto fine. Nella versione dei fratelli Grimm di Rapunzel ci viene detto che il principe durante le sue peregrinazioni arrivò finalmente nel deserto dove viveva miseramente Rapunzel con i giamelli che aveva messo al mondo, un maschietto e una femminuccia, benché in precedenza non fosse stata fatta nessuna menzione di figli. Quando essa abbraccia il principe, due delle lacrime di Rapunzel gli bagnano gli occhi che erano stati trafitti e lo guariscono della sua cecità ed egli la condusse al suo regno dove ebbe un'accoglienza festosa e dove essi vissero a lungo felici e contenti. Una volta che si sono ricongiunti non si parla più dei figlioletti essi sono soltanto un simbolo nella storia del legame fra Rapunzel e il principe durante la loro separazione. Dato che non ci viene detto che i due siano stati sposati e nient'altro suggerisce qualsiasi forma di relazione sessuale fra loro, questo accenno ai figli nelle fiabe incoraggia l'idea che i bambini possano essere ottenuti senza il sesso come un semplice risultato dell'amore. Nella vita di una famiglia media il padre è spesso fuori casa mentre la madre dopo aver messo al mondo e allattato il bambino continua a dedicarsi intensamente a lui e a tutte le sue necessità. Di conseguenza un ragazzo può facilmente pretendere che il padre non sia poi così importante nella sua vita. Ma una bambina non può altrettanto facilmente immaginarsi in grado di fare a meno delle cure materne. È per questo che la sostituzione di un cattivo patrigno a un originario padre buono è tanto rara nelle fiabe quanto è frequente la matrigna cattiva. Dato che normalmente i padri si prodigano molto meno per il bambino la delusione è meno coccente quando questo padre comincia ad opporsi ai suoi desideri o a desigere delle cose da lui. Così il padre costacola i desideri edipici del ragazzo non è visto come una figura malefica nella cerchia familiare né come scisso in due figure una buona e una cattiva come spesso è il caso della madre. Invece il ragazzo edipico proietta le proprie frustrazioni e ansie in un gigante un mostro o un drago. Nella fantasia edipica di una bambina la madre è scissa in due figure la meravigliosa madre buona pre-edipica e la cattiva matrigna edipica. A volte ci sono cattive matrigne in fiabe che hanno come personaggi dei maschietti come Hansel e Gretel ma fiabe del genere riguardano problemi diversi da quelli edipici. La buona madre secondo la fantasia della bambina non sarebbe mai stata gelosa di sua figlia o avrebbe impedito al principe cioè al padre e alla ragazza di vivere felici insieme. così per la ragazza edipica la fede e la fiducia nella bontà della madre pre-edipica e la profonda lealtà nei suoi confronti tendono a ridurre il senso di colpa suscitato da quello che la bambina vorrebbe che accadesse alla matrigna cioè alla madre che contrasta i suoi voleri. Così sia la bambina sia i bambini edipici grazie alla fiaba possono avere il meglio dei due mondi possono godere pienamente di soddisfazioni edipiche a livello fantastico e mantenere buoni rapporti con entrambi i genitori nella realtà. Per il bambino edipico se la madre lo delude in un angolo della sua mente c'è la principessa della fiaba quella meravigliosa donna del futuro che lo ricompenserà per tutte le sue attuali privazioni e il cui pensiero gliela rende molto più tollerabili. Se il padre non circonda la figlioletta di tutte le attenzioni che essa desidera la bambina può sopportare questa avversità perché arriverà un principe che la preferirà a tutte le rivali. Dato che tutto questo avviene in un paese immaginario il bambino non è costretto a sentirsi in colpa o ansioso per avere posto il padre nel ruolo di un drago o di un malvagio gigante o la madre nel ruolo di una miserabile matrigna o di una strega. La bambina può amare ancora meglio il vero padre in quanto il suo risentimento per il fatto che egli non la preferisce a sua madre è spiegato dalla sua lamentevole inettitudine che riscontriamo nei padri delle fiabe per la quale nessuno può obbiasimarlo poiché è dovuta a potenze superiori. Inoltre essa non le impedirà di avere il suo principe. Una ragazza può amare ancora di più sua madre perché dirige tutta la sua collera verso la madre rivale che riceve quanto si merita. così come la matrigna di Biancaneve è costretta a mettersi le scarpe arroventate e a ballare fino a cascare morta. E Biancaneve e con lei la bambina non deve sentirsi in colpa perché il suo amore per la sua vera madre che precedette la matrigna non è mai venuto meno. Il ragazzino può amare il suo vero padre ancora di più dopo essersi scaricato di tutta la collera che prova per lui attraverso una fantasia in cui distrugge il drago e il gigante cattivo. Semili fantasie offerte dalle fiabe fantasie che ben difficilmente la maggior parte dei bambini saprebbero inventare da soli in modo così completo e soddisfacente possono aiutare notevolmente un bambino a superare la sua angoscia edipica. La fiaba presenta altri valori impareggiabili a beneficio dei bambini che vanno aiutati a superare conflitti edipici. Le madri non possono accettare i desideri dei loro figlioletti di sbarazzarsi del papà e di sposare la mamma ma una madre può partecipare con piacere alla fantasia in cui suo figlio immagina se stesso come l'uccisore dei draghi che prende possesso della sua bellissima principessa. Inoltre una madre può incoraggiare senza riserve le fantasie della figlia circa il bel principe che si unirà a lei aiutandola così a credere in una felice soluzione nonostante la sua presente delusione. Così lungi dal prendere la madre a causa dell'attaccamento edipico al padre la figlia si rende conto che la madre non solo approva simili desideri cammuffati ma anche spera nella loro realizzazione. Mediante le fiabe il genitore può unirsi al bambino in tutti i viaggi fantastici pur mantenendo la sua importantissima funzione di svolgere i compiti parentali nella realtà. Così un bambino può avere il meglio di entrambi i mondi ed è questo che gli serve per maturarsi in un adulto sicuro. Nella fantasia una bambina può avere la meglio sulla matrigna cioè sulla madre che si sforza in vano di impedire la sua felicità col principe. Un maschietto può uccidere il mostro e ottenere quanto desidera in una terra remota. Nello stesso tempo sia le bambine sia i bambini possono continuare ad avere in casa propria il vero padre come protettore e la vera madre che fornisce tutte le cure e le soddisfazioni di cui un fanciullo ha bisogno. Poiché è chiaro dal principio alla fine che uccidere il drago e sposare la principessa imprigionata o essere sconfitto dal principe azzurro e punire la strega cattiva sono eventi situati in epoche e terre lontane. Il bambino normale non li confonde mai con la realtà. Le storie basate sui conflitti edipici sono tipiche di un'ampia categoria di fiame che estendono gli interessi del bambino oltre l'immediata cerchia familiare. Per compiere i suoi primi passi verso la trasformazione in un individuo maturo il bambino deve cominciare a rivolgere la propria attenzione al più vasto mondo. Se il bambino non viene aiutato dai suoi genitori nella sua reale o immaginaria scoperta del mondo oltre le pareti domestiche c'è il rischio di impoverire lo sviluppo della sua personalità. Non è saggio sollecitare con tante parole un bambino a cominciare ad allargare i suoi orizzonti o informarlo in modo specifico fino a che punto possa spingersi nelle sue esplorazioni del mondo o come deve differenziare fra loro i suoi sentimenti circa i propri genitori. Se un genitore incoraggia verbalmente è un figlio letto a maturarsi a uscire in senso psicologico o geografico il bambino dà al suo discorso questa interpretazione vogliono sbarazzarsi di me il risultato è esattamente l'opposto di quello desiderato. Infatti così il bambino si sente non desiderato e privo di importanza e simili sentimenti sono molto pregiudizievoli per lo sviluppo della sua capacità di affrontare questo più vasto mondo. Il compito di apprendimento del bambino è precisamente quello di decidere quando andarsene di propria iniziativa al momento giusto e nei campi della vita da lui stesso prescelti. La fiaba aiuta questo processo perché si limita ad accennare e se non consiglia mai né esige o dice esplicitamente nella fiaba tutto è detto implicitamente e in forma simbolica quali devono essere dei compiti adatti alla propria età come bisogna affrontare i propri sentimenti ambivalenti circa i propri genitori come si può dominare questo tumulto di emozioni. Inoltre essa avverte il bambino di alcune trappole che può aspettarsi e magari evitare sempre promettendo un esito favorevole.